Avete spesso sentito parlare di sette e delle cose orribili che talvolta fanno, ma quella di cui voglio parlarvi oggi è unica nel suo genere, perché il tragico epilogo che ha portato la fondazione di una setta chiamata il Tempio del Popolo sarebbe stato ricordato nella memoria collettiva come il massacro di Jonestown. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose macabre, paranormali e il true crime, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi voglio parlarvi di una vicenda davvero surreale e molto più macabra del solito. Avete mai sentito parlare di Jim Jones? Alcuni di voi sicuramente sì, ma per quello che ha fatto dovrebbero conoscerlo tutti. Parliamo di quanto una singola persona possa avere influenza e potere di plasmare altrimenti, di convincere tante persone a fare determinate cose, cose anche terribili. Preparatevi per la storia di Jim Jones e della sua setta, il Tempio del Popolo. Prima di cominciare però vi ricordo come al solito che su Pampling trovate le magliette che indosso nei video, come questa qua, nuova che mi è arrivata, di Halloween. E se non sbaglio, mentre guardate questo video dovrebbe ancora esserci il 20% di sconto su tutto il sito. Ricordate il codice Andrew se prendete qualcosa perché vi darà anche delle calze a vostra scelta totalmente in omaggio. Comunque qualora ci fosse un'altra offerta ve la scriverò qui sotto in descrizione. Detto questo, cominciamo con la storia di James Warren Jones. James Warren Jones, conosciuto anche semplicemente come Jim, nasce il 13 maggio 1931 nella cittadina di Crete, in Indiana. I suoi genitori si chiamano invece James Turman Jones e Linetta Putnam. James, il padre, è un veterano della Prima Guerra Mondiale che vive di sussidi di invalidità dopo essere stato ferito sul campo di battaglia. Tra l'altro ferito da armi chimiche. Pare che il padre di Jim, inoltre, fosse iscritto al Ku Klux Klan, quindi una personcina proprio simpatica. Insomma. Contate però che negli anni 40 la segregazione razziale era molto presente. Pensate, si stima che circa la metà della popolazione maschile adulta sia appartenuta per un certo periodo di tempo a questa congregazione. In realtà il Ku Klux Klan nasce già nella seconda metà dell'Ottocento dopo che la comunità nera ottiene i primi diritti politici, ma conosce una nuova fioritura proprio intorno agli anni 30-40 del Novecento. Il fatto che il padre di Jim facesse parte di questa organizzazione mi ha fatto un po' pensare, e dopo capirete il perché, ci mi ha fatto ridere più che altro. I genitori di Jim ad ogni modo si rivelano fin da subito dei genitori assenti e anaffettivi. La madre Linette non aveva nessun istinto materno e a quanto pare lei non voleva nemmeno avere figli in realtà. Ma come sapete le pressioni sociali e le aspettative che si avevano su una donna all'epoca l'avevano spinta, o direi quasi costretta, ad averne uno. Motivo per cui in quegli anni, ma in realtà purtroppo a volte anche adesso, molte persone fanno figli anche contro la propria volontà. Magari pensano di volerli perché è stato loro insegnato così, sono state spinte magari a credere di volerli, e questa è una cosa sicuramente molto triste. E i risultati di tutto ciò si vedono molto spesso. Comunque, torniamo a noi. Il padre di Jim, non riuscendo a guadagnare abbastanza soldi per mantenere la famiglia solo con il sussidio dello Stato, fa invece dei lavoretti occasionali per riuscire ad arrivare a fine mese. Purtroppo però i soldi anche così non bastano, principalmente per via del mutuo che avevano della casa. Inoltre col passare del tempo, la malattia di James si aggrava, diciamo, il che ovviamente non fa altro che portare ad ulteriori difficoltà finanziarie. Per questo, nel 1934, la famiglia viene sfrattata. Dopo lo sfratto, alcuni parenti acquistano una baracca a Lynn, una città che distava circa 10 minuti di macchina da Crete. La nuova casa, che sarà il luogo in cui Jim crescerà, era priva di impianti idraulici, non c'era il riscaldamento e mancava l'elettricità. A Lynn, la famiglia tenta di guadagnarsi da vivere attraverso l'agricoltura, ma le cose diventano complicate. Quando la salute del padre, già molto precaria, continua a peggiorare. La famiglia spesso non aveva cibo adeguato e faceva affidamento sul sostegno finanziario dei parenti. Pensate che il cibo a casa dei Jones scarseggiava così tanto che a volte James, sempre il padre di Jim, partiva per ore nella foresta nella speranza di trovare qualche tipo di cibo, anche solo magari delle bacche, frutti di bosco, cose così, in modo da poter mettere qualcosina sotto i denti. Quando Jim comincia alle elementari, suo padre, invece, comincia ad essere ricoverato molto più spesso in ospedale. E i parenti a quel punto minacciano di togliere il supporto finanziario se Lynette non avesse trovato un lavoro, poiché a quel punto doveva essere lei a portare il pane a casa. Anche, cioè, letteralmente, dato che suo marito era molto, molto malato. E così, Lynette trovò un lavoro come operaia in una fabbrica, il che la porta ovviamente a trascorrere tutte le giornate fuori casa, mentre James rimane sempre più tempo in ospedale. Di conseguenza, entrambi i genitori sono spesso, se non quasi sempre, assenti. E James ovviamente soffrirà moltissimo per questa cosa. Nonostante le sue zie e i suoi zii vivessero nelle vicinanze e gli fornissero comunque una certa supervisione, Jim girava spesso per le strade da solo dopo la scuola. E a volte veniva visto anche in giro nel quartiere senza vestiti, pensate. Alcuni signori del vicinato, proprio per questo, vedendolo spesso da solo in quello stato, lo prendono a cuore, diciamo, e cominciano a invitarlo a casa. Gli offrono del cibo, dei vestiti, rimangono con lui aspettando il rientro dal lavoro di sua madre. Jim, nonostante queste problematiche, a scuola si rivela un bambino molto intelligente e determinato. Non eccelle negli sport, ma gli piace un sacco giocare a baseball. Infatti formerà lui stesso una squadra di baseball insieme ad altri ragazzi del suo quartiere. Come ho detto, Jim non eccelle però nello sport, quindi nemmeno nel baseball, ma c'è qualcosa in cui è davvero molto bravo. Ovvero formare delle squadre ed essere il leader di queste squadre. Questo gli piace proprio da matti. E già da qui possiamo intravedere un lato del suo carattere che in futuro lo porterà ad essere quello per cui è ricordato. Tristemente, aggiungerei. Con l'arrivo della prima adolescenza, James comincia a visitare le varie chiese della città e cerca di andare in realtà in quante più possibili, solo per sedersi e guardare cosa facessero gli adulti quando andavano a messa. E la religione, sorprendentemente per un bambino di quell'età, scopre che è un mondo che lo affascina tantissimo. E non è neanche una cosa che era stata inculcata dai genitori, perché nessuno dei due era credente o praticante. E anche questa cosa è una cosa molto inusuale per quei tempi in America. Jim comunque voleva conoscere quante più religioni possibili e quindi comincia a frequentare letteralmente tutte le chiese della zona, partecipando a ogni singola funzione religiosa. Un giorno la moglie del pastore della chiesa Nazarena, notando che Jim si recava spesso lì da solo, lo prende anche lei a cuore, in simpatia, e gli regala una Bibbia spronandolo a studiarla. Da lì comincia anche ad insegnargli a seguire il codice di santità della chiesa Nazarena. E con il passare del tempo Jim comincia ad andare sempre più spesso a tutte, tutte, tutte le funzioni nella maggior parte delle chiese di Lynn, spesso andando in più chiese ogni settimana. Pensate che viene addirittura battezzato più volte in ognuna di esse. Sua madre, quando viene a conoscenza di questa sua forte passione per la chiesa e per tutto questo mondo che girava intorno ad essa, ne rimane abbastanza atturbata e tenta di impedirgli di partecipare alle messe. A questo punto però voi direte, che cosa c'è di male no? Alla fine, era solo chiesa. Jim era letteralmente abbandonato a se stesso ed è normale che fosse alla ricerca di un gruppo a cui appartenere, perché alla fine lui cercava solo questo, una famiglia che lo accogliesse per sentirsi finalmente parte di qualcosa. C'è da dire però che questa sua innocente passione si è trasformata molto presto in una vera e propria ossessione. Sebbene i vicini del quartiere provassero simpatia per lui, probabilmente a causa delle condizioni in cui viveva, tutti hanno riferito che era un bambino piuttosto strano, ossessionato dalla religione e anche dalla morte. E qui cominciano a venire fuori i primi lati un po' strani di Jim. Ad esempio, a quanto pare, Jim visitava regolarmente un produttore di bare all'Inn, dove teneva dei finti funerali. Un vicino della famiglia ha addirittura affermato che Jim un giorno ha ucciso un gatto con un coltello, soltanto per potergli fare un funerale. Che stronzo. Quando non riusciva a convincere nessun bambino a partecipare a questi finti funerali, svolgeva i servizi da solo. Finti non sempre a questo punto, perché si uccideva pure gli animali domestici di quella zona. Vabbè. Oltre a questo, affermerà di avere capacità uniche come la capacità di volare. Cosa che mi ricorda un po' Shoko Asahara, il leader della setta Om Shirikyo. Ve lo ricordate? Lui diceva di saperlevitare, per esempio. Vabbè, comunque un giorno per dimostrare a tutti questa sua abilità, o direi superpotere a questo punto, salta addirittura dal tetto di un edificio, ovviamente cade, non vola, e si rompe un braccio. Nonostante questo sfortunato incidente, sempre se possiamo definirlo tale, Jim continuerà a sostenere di essere in grado di volare. A volte metteva altri bambini in situazioni pericolose e diceva loro che era guidato dall'angelo della morte. Inoltre, era solito fare innumerevoli scherzi di pessimo gusto. Ad esempio, un giorno aveva sostituito l'acqua santa con la propria urina, solo per divertimento. E in un'altra occasione aveva rubato una bibbia da una chiesa e l'aveva ricoperta con delle tame di mucca. Tanto appassionato dalla religione della chiesa, però poi non è che la rispettasse così tanto. E' stato anche più volte sorpreso a rubare le caramelle ai mercanti della città e usava spesso un linguaggio volgare e offensivo. Tipo, salutava i suoi vicini urlando buongiorno figlio di puttana o ciao povero stronzo. Un ragazzino molto tranquillo, insomma. Cioè, sua mamma Linette proprio per questo era solita picchiarlo, il che ovviamente non aiutava. Ma i suoi lati strani non finiscono qui, perché Jim col tempo inizia a sviluppare un intenso interesse per le dottrine sociali. In particolare comincia a studiare tutto su Adolf Hitler, Josef Stalin, Karl Marx e Mahatma Gandhi, passando gran parte del suo tempo nella biblioteca comunitaria. Con l'inizio della seconda guerra mondiale, Jim sviluppa un intenso interesse per il partito nazista. Era totalmente affascinato dal loro sfarzo, dalla loro coesione e dal potere totale che il loro leader aveva sulle folle. In quel periodo, quindi, Jim cerca di imitare questi suoi idoli, li definirei, e inizia a comportarsi come un vero e proprio dittatore con i suoi coetanei. Se qualcuno gli disobbediva, allora Jim semplicemente lo picchiava. Insomma, dopo aver ucciso dei gattini innocenti, dopo aver tenuto funzioni funebri, ha capito che preferiva di gran lunga essere un nazista. Beh, con l'arrivo delle superiori, Jim diventa un vero e proprio immarginato per questo. Nessuno voleva essere suo amico e nessuno voleva proprio averci niente a che fare. In realtà, come studente, se la cavava abbastanza bene, prendeva buoni voti e andava d'accordo con tutti gli insegnanti. Ma il suo rapporto morboso con la religione lo aveva allontanato da tutti i suoi compagni. Portava con sé la sua Bibbia ovunque e le sue opinioni religiose lo alienavano completamente dagli altri. Spesso, quando vedeva i suoi compagni fuori da scuola intenti a bere qualche birro o a fumare, andava da loro e li interrompeva nei loro discorsi, cominciando a parlare di religione, dicendo che loro avrebbero dovuto cominciare a leggere la Bibbia perché stavano peccando o cose del genere. Come abbiamo detto prima, Jim non eccelleva nemmeno nello sport, ma col tempo ha comunque deciso di allenare le squadre di baseball dei più piccoli. Non per una passione verso quello sport, appunto, ma per ricoprire quella figura di leader a cui tanto aspirava. È proprio da una di queste partite di baseball che Jim rimane turbato dal trattamento riservato agli afroamericani. Gli eventi di quella partita portano all'attenzione di Jim la discriminazione contro gli afroamericani e influenzano la sua forte avversione al razzismo. Quando prima vi dicevo che mi faceva riflettere il fatto che il padre di Jim facesse parte del Ku Klux Klan, mi riferivo proprio a questo. James apparteneva al ramo indiano del Ku Klux Klan, che godeva di un notevole sostegno in Indiana durante la Grande Depressione, ma Jim era totalmente in disaccordo su questo. Negli anni, infatti, il ragazzo ha tagliato completamente tutti i rapporti con suo padre. L'ha fatto dopo che quest'ultimo gli aveva proibito di portare a casa i suoi amici neri. Ma chi glielo dice che il suo amico Hitler detestava anche i neri? Però vabbè, ormai abbiamo capito che il ragazzo aveva le idee un pochino confuse. Ecco, i genitori di Jim ad ogni modo si separano nel 1945 e alla fine poi divorziano. Jim quindi si trasferisce a Richmond con sua madre, sempre nell'Indiana, dove si diploma con l'ode alla Richmond High School nel dicembre del 48. A seguito del divorzio, Jim e sua madre perdono il sostegno finanziario dei loro parenti e per mantenersi il ragazzo si vede costretto a cominciare a lavorare come inserviente al Ride Hospital di Richmond, lavoro che comincia nel 1946 mentre stava ancora studiando. Nel 1948 Jim, mentre lavorava lì in ospedale, conosce quella che diventerà la sua futura moglie, la studentessa di infermieristica Marceline Mae Baldwin. I due vanno subito molto d'accordo e finiscono con l'uscire insieme. Jim si trasferisce poi a Bloomington, sempre in Indiana, nel novembre del 48, dove comincia a frequentare l'Indiano University con l'intenzione di diventare medico, ma poco dopo cambia idea. Durante la sua permanenza all'università, Jim rimane colpito da un discorso di Eleanor Roosevelt sulla difficile situazione degli afroamericani. Inizia, per la prima volta, a sostenere il comunismo e altre opinioni politiche radicali. Quindi, ricapitolando, dopo essere stato il serial killer dei poveri felini del suo quartiere, dopo aver imposto la sua dittatura nazista nel quartiere, ora era diventato comunista. Non lo so, mi fa ridere, ma lui era serio. Jim aveva proprio le idee un po' confuse. In tutto questo, lui e Marceline continuano la loro relazione, mentre Jim frequenta il college, e alla fine decidono di sposarsi il 12 giugno del 49. La loro prima casa è appunto a Bloomington, luogo in cui Marceline lavorava per un ospedale. La ragazza, però, era per la chiesa metodista, motivo che porta fin da subito a discussioni accesissime tra i due. La chiesa metodista, infatti, era favorevole alla segregazione razziale. Mentre, sappiamo, Jim era totalmente contrario. In teoria. Dopo aver frequentato l'università dell'Indiana per due anni, i due si trasferiscono ad Indianapolis nel 51. Jim frequenta i corsi serali alla Butler University per continuare gli studi, e nello stesso anno inizia a partecipare alle riunioni del Partito Comunista statunitense. Spesso porta anche Marceline nelle chiese locali, nere o afroamericane, e fin da subito dice a sua moglie quanto sia attratto da loro. Perché nelle numer... Non dalle afroamericane, dalle chiese afroamericane. Perché nelle numerosissime chiese bianche in cui era stato, erano tutti rigidi, le funzioni erano molto noiose, la gente sembrava stesse di per obbligo e non per piacere. Nelle chiese afro, invece, la gente cantava, ballava, saltava, si divertiva durante la funzione, e sembrava proprio una grande famiglia, quello che Jim aveva sempre cercato. Nell'estate del 52, quando Jim ha 21 anni, viene assunto come pastore studentesco per i bambini presso la chiesa metodista di Somerset Southside, dove lancia un progetto per creare un parco giochi aperto ai bambini di tutte le razze. Tuttavia, all'inizio del 54 viene licenziato per aver rubato i fondi della chiesa, anche se in seguito affermerà di aver lasciato la chiesa perché i suoi leader gli avevano proibito di integrare gli afroamericani nella sua congregazione. Vabbè. Per questo motivo, diciamo, Jim prende una grandissima decisione. Avrebbe aperto la sua chiesa. Una chiesa in cui tutti, proprio tutti, sarebbero stati benvenuti, e l'avrebbe fatto proprio ad Indianapolis. La congregazione di Jim, quindi, prende vita, e diventa presto nota per essere aperta sulla questione razziale. Ciò rappresentava una cosa totalmente nuova a quel tempo perché non esisteva nessun luogo o nessuna istituzione in cui le persone bianche e le persone nere potessero stare insieme. Jim, tuttavia, non la pensava affatto così, e ormai l'abbiamo capito. Voleva davvero che tutti fossero i benvenuti nella sua chiesa. Marceline, intanto, si fa, diciamo, plasmare da Jim, e prende la sua stessa idea, comincia a lavorare al suo fianco, ed lei, anziché, comincia ad occuparsi di tutte le faccende burocratiche, delle questioni organizzative della chiesa. La sua chiesa, prevede la forte innovazione per il tempo, conosce in fretta un grande successo, talmente tanto che comincia a diventare piuttosto piccola per ospitare tutti i membri che si presentavano le funzioni. Quindi Jim cerca di espandersi in un'area più grande per ospitare tutti i suoi fedeli. Per avere una chiesa più grande, però, come sapete, servivano soldi. E Jim sapeva bene che non poteva chiedere esplicitamente denaro ai suoi fedeli. Quindi decide di alzare il livello delle sue prestazioni durante le funzioni religiose. Praticamente Jim comincia a stupire la folla e lo fa compiendo dei veri e propri miracoli di guarigione. Ma all'inizio deve dimostrare di non essere un ciarlatano e quindi comincia con cose un po' più soft, tipo guarire dei semplici mal di testa o dei raffreddori. Solitamente prendeva delle persone tra la folla, metteva loro una mano sulla testa e dopo un paio di preghiere li convinceva di averli guariti dai loro mali. La gente era così convinta delle sue parole, perché per quanto era bravo a parlare, per quanto era carismatico, che ci credeva davvero. Anche perché in quel momento Jim rappresentava una novità, una sorta di svolta, per cui tutti hanno riposto la loro fiducia in lui. A quanto pare alcune persone davvero sono guarite da questi piccoli mali grazie ai suoi miracoli, ma penso che si trattasse di effetto placebo. Cioè queste persone erano convinte delle sue capacità, pensavano davvero che potesse guarire, e quindi sono guarite. Dopo queste prestazioni comunque Jim passava in giro per la chiesa a raccogliere le offerte e funzione dopo funzione i soldi aumentano sempre di più. Jim allora in quel momento capisce di dover alzare ancora di più il livello delle sue prestazioni, in modo tale da guadagnare ancora più denaro. Avrebbe dovuto compiere dei veri e propri miracoli, quindi che cosa fa? Fa sì che alcune persone vicine a lui sapessero quello che stava realmente accadendo con questi suoi presunti poteri curativi. Persone quindi che accettavano di fingere di soffrire di un male incurabile per poi farsi guarire miracolosamente da Jim Jones davanti agli occhi pieni di speranza dei fedeli. Una volta, per esempio, una coppia si è alzata in mezzo ai presenti e ha affermato che Jim li aveva guariti da un problema di cuore apparentemente incurabile. Quindi da piccoli mali, tra cui mal di testa e banali raffreddori, Jim alza di più l'asticella e comincia a convincere le persone di poterle guarire da malattie molto pesanti, come anche il cancro. Questa sua nuova fama gli permette di guadagnare davvero un sacco di soldi, per cui Jim finalmente si trasferisce in un edificio più grande. Un edificio che ora può contenere fino a 700 persone. Questa sua nuova chiesa si trova ad Indianapolis e fuori dall'edificio era già scolpita in realtà la parola Temple, Tempio. Ed è allora che Jim decide di chiamare la sua chiesa il Tempio del Popolo. Jim si prefigge l'obiettivo di integrare gli afroamericani e tutta la comunità nera sotto ogni aspetto, perché a Indianapolis la segregazione razziale era ancora molto forte. Prende proprio a cuore questa missione. E quindi con tutti i membri della sua chiesa, si reca davanti ai ristoranti e ai negozi di proprietà dei bianchi e protesta insieme a loro per chiedere che ci fosse più uguaglianza. Le proteste diventano così intense giorno dopo giorno che alla fine molti di quei ristoranti e negozi finiscono per accettare anche gli afroamericani. Insomma, una vera e propria vittoria per Jim, che si era sempre battuto per l'uguaglianza di tutti. Se posso fare una piccola parentesi, penso che questa sia letteralmente l'unica cosa buona che ha fatto. Nel senso che lui davvero voleva includere tutti, voleva l'uguaglianza per tutti e su questo non si è mai tirato indietro. Ha sempre combattuto a spada tratta affinché tutti fossero sullo stesso piano. Se Jim non avesse però avuto nessuna mania di protagonismo e fosse rimasto con i piedi per terra a combattere per i diritti civili, secondo me avrebbe davvero fatto qualcosa di buono. Ma purtroppo non è stato così. Altrimenti non sarei qui a parlarne. Comunque sì, Jim comincia a parlare con tutti i ristoratori e i negozianti della città e dice loro che se avessero accettato anche gli afroamericani nei loro locali, allora avrebbero cominciato a guadagnare un sacco di soldi. Per mantenere questa promessa, Jim decide di distribuire dei volantini ai membri della sua chiesa con sopra scritto un elenco completo di tutti i ristoranti che accettavano equamente gli afroamericani. La voce ovviamente comincia a spargersi in fretta tra i proprietari delle varie attività commerciali e chiunque alla fine in città comincia ad accettare pure i neri. Jim capisce in fretta che per raggiungere i suoi altissimi obiettivi, quindi continuare a far spargere la voce e farsi conoscere da nuove persone, deve spostarsi. Nel 1965 decide quindi di andare a Ucchia in California, ovviamente insieme a sua moglie. Lì i due investono tutti i soldi guadagnati in un nuovo posto, una nuova sede dell'ormai consolidato Tempio del Popolo. Ma purtroppo per loro, lì, la chiesa non conosce subito un grande successo. Anzi, Jim, specialmente per questo, si rattrista tantissimo. Ma oltre a questo, anche il matrimonio con Marceline comincia a non andare più bene come prima. Ormai i due erano sposati da ben 16 anni e avevano avuto ben 4 figli insieme, cosa che non vi ho detto. Uno di loro era biologico, mentre gli altri 3 erano adottati. Ma Jim era talmente concentrato sulla sua chiesa che non dava mai attenzione ai figli. Per cui era solo Marceline a ricoprire il ruolo di genitore. Jim col tempo comincia anche a guardarsi intorno e finisce per avere una relazione con una delle sue seguaci, un membro della chiesa molto più giovane di lui. Questo però andava totalmente contro i suoi valori e quello in cui credeva, perché durante le funzioni era il primo a dire che il tradimento era sbagliatissimo, che la fedeltà nel matrimonio era tutto. Così, per una volta decide di essere coerente, dice a Marceline tutto quanto. Lei, piccola parentesi, soffriva di dolori cronici alla schiena, che ovviamente non le permettevano di soddisfare, tra virgolette, i bisogni sessuali di Jim. Per cui lui gliela mette così. Oddio, detta così non è bellissima. Insomma, prova a trovare una soluzione. E lei dice di amarla ancora e di voler ancora essere sposato con lei, ma dato che lei non riusciva a soddisfarlo dal punto di vista sessuale, allora lui sarebbe andato a cercare questa soddisfazione altrove. Per Jim, alla fine, era solo sesso, non una relazione emotiva, e quindi Marceline finisce per accettarlo. Anche se in realtà non è che avesse molta scelta. Aveva già dedicato tutta la sua vita a sostenere Jim, e non aveva nessun piano B per se stessa. Quindi dove sarebbe andata se l'avesse lasciato? Per lei, purtroppo, è brutto dirlo, ma era meglio far finta di niente. Far proprio finta di non vedere. Durante il suo soggiorno in California, Jim accetta un lavoro come insegnante di storia presso una scuola di istruzione per adulti. In realtà lui non importava affatto della mansione in sé. Più che altro comincia ad usare la sua posizione per reclutare persone per la sua chiesa, insegnando ai suoi studenti i benefici del marxismo e leggendo articoli sulla religione. Jim in questo modo riesce a reclutare ben 50 nuovi membri solo nei primi mesi. Nei mesi successivi i seguaci di Jim riescono anche a convincere altri 75 membri della congregazione di Indianapolis a trasferirsi in California, facendo crescere sempre di più la sua comunità di fedeli. Jim comunque, nonostante il discreto successo, vuole allargarsi ancora e per questo tra il 65 e il 70 continua a viaggiare per la California passando da tutte le grandi città, quindi Los Angeles, San Francisco e tutto questo con lo scopo di reclutare più persone possibili. Riesce effettivamente ad aprire le sue chiese sia a Los Angeles che a San Francisco e in quegli anni comincia anche a ricevere delle donazioni da parte di persone da tutto il paese. Con il passare del tempo però lui diventa sempre più controllante, sempre più giudicante nei confronti dei seguaci che non dedicavano tutto il loro tempo e le loro energie alla chiesa o sarebbe meglio dire alla setta. Ad esempio spronava i suoi seguaci a non andare al cinema perché era meglio donare i soldi alla chiesa piuttosto che usarli per vedere un film. Scoraggiava anche le relazioni romantiche perché erano fonti di distrazione e anche l'uso di droghe e di alcol perché indebolivano il corpo. E qui apriamo una piccola ma grande parentesi ragazzi. A quanto pare Jim, da quando si era trasferito in California, aveva iniziato a fare un uso massiccio di droghe il che lo faceva diventare molto molto paranoico. Col tempo ha cominciato anche ad usare sempre di più la paura per controllare e manipolare i suoi seguaci. Parlava spesso di un nemico che cercava di distruggerli e profetizzava che incendi, incidenti automobilistici e morte si sarebbero abbattuti su chiunque fosse stato infedele a lui e ai suoi segnamenti. I membri che si ribellavano al controllo di Jim venivano puniti con razioni di cibo ridotte, orari di lavoro più rigidi, umiliazioni pubbliche e a volte con violenza fisica. Sì perché queste persone, a questo punto, vivevano proprio nelle strutture del Tempio del Popolo, mangiavano insieme, lavoravano insieme per la chiesa, facevano tutto insieme, letteralmente. Erano state convinte da Jim Jones a dedicare la loro intera esistenza alla setta. Ovviamente donavano al Tempio del Popolo anche tutte le loro possessioni, tutto il loro denaro, i loro beni materiali e via dicendo. Una storia che abbiamo sentito e risentito. Questa volta però, credetemi, sarebbe andato tutto in rovina, in una maniera molto peggiore di quanto immaginate, se non sapete la storia. Ne sono sicuro. Jim comunque a questo punto inizia anche a circondarsi di guardie armate per la sua sicurezza personale. Un gruppo di persone che chiamerà Commissione di Pianificazione. E in tutto questo minestrone, ovviamente, non potevano mancare gli abusi sessuali. I primi casi noti di gravi abusi nel Tempio del Popolo sorgono in California, quando la Commissione di Pianificazione decide di attuare misure disciplinari contro i membri che non rispettavano la visione di Jim, oppure non seguivano le regole. Alcuni membri vengono anche costretti ad abortire, perché come risultato di questi abusi erano magari rimasti incinta. Jim inizia a richiedere favori sessuali alle donne della chiesa, ma violenta anche diversi membri maschi della sua congregazione. Arrivati a questo punto, direi che la sua manipolazione, il suo carisma, la sua capacità di parlare e convincere le persone, era arrivata a livelli spaventosamente pericolosi. Proprio come quella dei suoi grandi idoli. O quasi. Nel 1970, Jim acquista vari pullman in modo da poter portare i suoi fedeli in giro per gli States, con il fine di reclutare sempre più membri. In uno di questi viaggi, Jim tiene un incontro in una chiesa a San Francisco, in cui impressiona la folla affermando di riuscire a guarire il cancro. Ma la verità, non c'è neanche bisogno di dirlo, è che Jim non aveva assolutamente nessun potere curativo. Tutti questi spettacoli che metteva in scena, riusciva a portare la termine solo con l'aiuto di alcuni dei suoi seguaci, che sapevano non avesse davvero poteri. Ecco come andava. Jim sceglieva qualcuno tra la folla, e gli diceva di avere un male incurabile, come un cancro. Poi, con l'aiuto di alcuni suoi fedeli, faceva chiudere gli occhi della persona scelta tra la folla, gli diceva di iniziare a tossire, e con qualche trucchetto di mani tirava fuori un pezzo di pollo. Solitamente era un pezzo di fegato, di pollo, o comunque qualche parte, qualche interiore. E lo mostrava alla folla dicendo che quello lì era il tumore. Scusate. Che quello lì era il tumore che aveva appena guarito. E ragazzi, la gente ci credeva, perché ormai Jim si era guadagnato la fiducia anche di più scettici. Questo evento a San Francisco infatti riscuote un enorme successo, grazie al quale riesce a reclutare ben 200 nuovi membri. Tuttavia, non tutte le tappe hanno avuto lo stesso successo. Nel 1971, Jim porta 200 membri del tempio a visitare il santuario di Father Divine. Father Divine, in molta sintesi, era un altro pezzo grosso, se parliamo di leader di sette. Il suo nome completo era Reverendo Maggiore Jealous Divine e all'inizio della sua vita era anche conosciuto come Il Messaggero, perché diceva di essere l'incarnazione di Dio. È molto conosciuto per aver fondato l'International Peace Mission Movement, un movimento che appunto sostiene che Father Divine sia Dio in persona. Ma non mi addentrerò ulteriormente nella sua vita, perché potrebbe esserci un video a parte, tranquillamente. Father Divine, comunque, è morto il 10 settembre del 1965, ma i suoi sostenitori in America erano ancora tantissimi. E l'obiettivo di Jim era proprio quello di convincere loro, di convincere i seguaci di Father Divine, ad unirsi alla sua setta. Quindi, dopo aver visto il santuario, il gruppo viene invitato a cena dalla vedova di Father Divine. Durante la cena, però, succede qualcosa. Infatti, Jim comincia a dire di essere la reincarnazione di Father Divine, una mossa molto azzardata, ma come ben immaginate, la cosa non viene affatto apprezzata. Anzi. La vedova di Father Divine si alza in piedi e accusa Jim di essere il diavolo sotto mentite spoglie e gli ordina quindi di andarsene insieme a tutti i suoi seguaci. La mossa di Jim è stata considerata folle, ma in realtà a qualcosa è servita. Non se n'è andato a mani vuote, perché con quell'intervento era riuscito a reclutare comunque alcuni membri di Father Divine. È assurdo. Con l'aumentare dei membri, aumentano anche ovviamente le donazioni, ma a pari passo aumenta anche l'abuso di droghe di Jim. Ora, costantemente sotto l'effetto di qualche sostanza, Jim ha bisogno di circondarsi di persone fidate che lo aiutino nella sua missione. Ogni leader di una setta ha una cerchia ristretta di devoti e quella di Jim, come vi ho detto prima, è la commissione di pianificazione. Ecco, ne facevano parte 30 dei suoi seguaci più stretti. 30 persone di cui lui si fidava ciecamente e che non l'avrebbero mai e poi mai tradito. E nonostante il Tempio del Popolo fosse una setta multietnica e inclusiva, questi super fedeli vicino a Jim avevano una cosa in comune, ovvero erano tutti bianchi. In pratica c'era una gerarchia e in cima c'erano le persone bianche. Loro sapevano tutto di Jim, sapevano delle sue finte guarigioni e di tutte le sue bugie, nonché dell'abuso di droghe, ma ormai erano completamente soggiogati e intanto gli abusi all'interno della setta non facevano altro che intensificarsi. Nel 1973 Jim viene arrestato in un cinema locale per aver mostrato i genitali ad un poliziotto in borghese. Vi fa ridere aver iniziato la frase così? Cioè, vi rendete conto? Ovviamente questa non è una buona pubblicità per un messaggero di Dio, no? Ecco, e se la storia fosse stata resa pubblica, lui sicuramente sarebbe stato rovinato. Quindi per mettere a tacere la cosa, Jim accetta un patteggiamento e si dichiara colpevole per il suo crimine. Ma il suo avvocato, che era anche un suo devotissimo seguace, si assicura che il verbale sia secretato al pubblico e quindi alla setta. Da questo momento in poi quindi Jim sarà totalmente fuori controllo, perché capisce di poterla far franca in ogni situazione. Alla fine c'era riuscito questa volta. Che cosa sarebbe cambiato le volte successive? Tutta questa storia di aver mostrato i genitali era stata insabbiata. Se fosse successo di nuovo una cosa simile, sarebbe riuscito a insabbiarla ancora. Insomma, questo è il ragionamento che fa lui. Nello stesso periodo però alcuni membri cominciano a lasciare la setta, perché vengono a conoscenza dell'abuso di stupefacenti da parte di Jim. Inoltre alcuni scandali che avvenivano nella setta cominciano a venire fuori. Se non comincia a parlare, la gente comincia ad indagare, vuole sapere che cosa cavolo succede dentro le mura del Tempio del Popolo. Jim ad un certo punto scopre addirittura che un giornalista stava ficcando il naso nei suoi affari e stava cercando di rintracciare gli ex membri della setta per scrivere un articolo denuncia su quello che accadeva all'interno della congregazione. Questo articolo avrebbe sicuramente messo in cattivissima luce Jim, perché rivelava i segreti del Tempio. L'articolo avrebbe parlato delle relazioni tra Jim e i suoi seguaci, del denaro che veniva estorto ai fedeli e anche dei maltrattamenti sui bambini che facevano parte della setta, ovviamente contro la loro volontà. Jim non poteva permettere che quell'articolo facesse crollare tutto il suo mondo, tutto quello che si era costruito nel tempo. Per sua fortuna però aveva già in mente un piano di fuga, un piano davvero sinistro, anche se sulla carta sembrava totalmente innocuo, ovvero la Guyana. La Guyana era una meta perfetta per molti motivi, innanzitutto era bilingue, si parlava l'inglese, era socialista, ed era lontana dalla portata dei giornalisti ficcanaso. Si arrivava facilmente anche in nave dal porto di Miami, che portava direttamente a Georgetown, la capitale. Oltre a questo l'economia del paese era in rovina, quindi la Guyana non era nella posizione di rifiutare l'entrata di denaro contante che avrebbe portato il tempio del popolo. La maggior parte della popolazione viveva lungo la costa atlantica, mentre la maggior parte della terra, della nazione, era ricoperta da una fitta giungla. Come avrebbe fatto a convincere centinaia di persone a trasferirsi dal nord al sud America, a lasciare tutti i loro affetti, le loro cose, la loro vita, solo per seguirlo? Come vi ho accennato prima, Jim puntava tutto sulla paura. E quindi cos'è che decide di fare? Convince i suoi fedeli del fatto che presto il governo americano sarebbe arrivato a prenderli per rinchiuderli nei campi di concentramento. Sembra assurdo, lo so, ma per queste persone lui era davvero il messaggero di Dio, si fidavano, si fidavano ciecamente. Jim quindi fa affittare alla sua setta circa 15 km quadrati di giungla e scappa insieme alla sua famiglia. I lavori cominciano fin da subito e i 70 seguaci di Jim che l'avevano seguito fino a lì cominciano a disboscare le varie zone su cui costruire il suo nuovo tempio, il suo nuovo villaggio a questo punto. E così nasce la famosissima, purtroppo, Jonestown, la città di Jones, Jim Jones. Il leader da subito comincia ad inviare vari filmati alle sue chiese in America in cui mostra la sua nuova Jonestown, il suo progetto perfetto, il suo Eden, e la presenta come un vero e proprio paradiso terrestre. A Jonestown, infatti, secondo Jim, i suoi seguaci avrebbero potuto vivere serenamente perché non c'era la polizia, uno, c'era cibo a volontà, nessuno doveva lavorare e, in sostanza, si poteva andare lì per godersi la vita e rilassarsi tutto il tempo, proprio come stavano facendo quei pochi fedeli già lì nei video. Ed è proprio così che Jim riesce a convincere oltre mille membri del Tempio del Popolo a trasferirsi in Guyana. Purtroppo, però, Jonestown non era proprio come Jim la presentava nei filmati. La realtà era ben diversa. Il cibo mancava, non c'erano case adatte per ospitare tutti i fedeli, il terreno non era coltivabile e mancavano addirittura i letti, ma c'era altro. Una volta arrivati a Jonestown, non si poteva più tornare indietro. Intorno al complesso c'erano guardie armate 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e sembrava a tutti gli effetti un campo di concentramento. Jim, lì, comincia ad esercitare un potere totale su tutti i suoi membri. Li costringe a lavorare dalle 12 alle 14 ore al giorno e chiunque cercasse di opporsi o ribellarsi finiva nell'unità di cure speciali. così la chiamava, dove gli veniva somministrata la clopromazina, un neurolettico per il trattamento delle psicosi. Chiunque cercasse di fuggire veniva immediatamente riportato indietro. L'unico mezzo per sopravvivere a Jonestown era ascoltare Jim e obbedire ai suoi ordini. Le persone iniziano ad avere paura perché capiscono che la vera minaccia non arrivava da fuori, come diceva lui, ma dall'interno. Era lui la minaccia. Nell'autunno del 78 alcuni disertori del tempio formano una sorta di gruppo di familiari preoccupati e contattano il deputato americano Leo Ryan, membro del congresso di San Matteo, e in sostanza gli chiedono se fosse possibile andare a Jonestown per verificare che fosse tutto a posto e che nessuno fosse trattenuto lì contro la sua volontà. E quando a Jim arriva la voce che un deputato americano avrebbe potuto mettere piede a Jonestown, va subito nel panico. Convoca tutte le persone per una riunione di emergenza dicendo che i soldati americani stavano arrivando e avrebbero attaccato Jonestown e quindi tutti i membri avrebbero dovuto prepararsi ad un attacco. Jim inizia a fare delle sorte di esercitazioni per testare la preparazione dei suoi fedeli in caso di attacco e in una di queste tante esercitazioni Jim dice ai suoi seguaci che avrebbe distribuito del veleno affinché tutti potessero berlo in un atto di suicidio collettivo. Viene servita a tutti una porzione di punch alla frutta ma dopo un po' di tempo Jim informa i suoi seguaci che si trattava solo di un'esercitazione e che non c'era del veleno nella loro bevanda. Voleva solo testare la loro lealtà. E loro avevano bevuto. Capite il livello di controllo che aveva? Il deputato Leo Ryan alla fine arriva a Jonestown il 18 novembre del 1978 insieme ad alcuni parenti dei seguaci del tempio, insieme anche alla troupe televisiva della NBC e altri giornalisti. Al loro arrivo Jonestown si era praticamente trasformata. Tutto era stato orchestrato per l'arrivo dei giornalisti. Tutti i seguaci davanti alle telecamere dicono di essere felici lì nel posto in cui vivono. Le persone cantano e ballano per dimostrare che a Jonestown tutto va bene e che la gente è contenta. Tuttavia quel giorno succede qualcosa che avrebbe portato al tragico epilogo di questa storia. All'insaputa di Jim, mentre tutti sono occupati a parlare, bere e ballare, un abitante di Jonestown si avvicina di nascosto ad un giornalista della NBC e gli passa un foglietto con su scritto Aiutateci ad uscire da Jonestown. Un vero e proprio grido d'aiuto. Non passa molto tempo prima che Jim lo scopra. E all'inizio non fa una piega. Anzi dice che chi vuole andare via è liberissimo di farlo. Leo Ryan quindi scorta i membri che volevano andarsene verso gli aerei. Ma gli uomini armati di Jim li seguono fino alla pista di decollo. Ed è da questo momento che inizia un vero e proprio massacro. Gli uomini armati aprono il fuoco contro il deputato Ryan, uccidendolo all'istante. Per poi sparare anche ad alcuni giornalisti e ad alcuni membri del tempio che cercavano di andarsene. Altri membri e alcuni giornalisti riescono a fuggire nella giungla evitando le pallottole. E quando Jim lo viene a sapere, prende una decisione drastica. Chiamano al rapporto l'intera comunità per comunicare che Leo Ryan era appena morto e che era solo questione di tempo prima che i militari scendessero nel loro villaggio e li uccidessero tutti. La gente ovviamente non aveva idea di cosa fosse davvero successo sulla pista di decollo. Jim quindi comunica a tutti che era giunta l'ora. Il suo suicidio rivoluzionario era pronto per essere attuato. Decide anche di registrare l'intero rituale su un nastro. Video che ovviamente non posso farvi vedere qui e che non ho nemmeno cercato perché non lo voglio vedere. Quindi non so se è effettivamente disponibile online. Ad ogni modo fa preparare centinaia e centinaia di tazzine con dentro il veleno che ognuno dei membri avrebbe dovuto bere. Così sarebbe stata la fine di tutto. E questa volta purtroppo il veleno c'era davvero. Alcuni membri non esitano un secondo e bevono subito il veleno ringraziando Jim per ciò che aveva fatto per loro. Ma la verità è che la maggior parte di loro non voleva morire così. Non voleva morire in quel modo assurdo. E quindi Jim con l'aiuto delle sue guardie armate ha deciso di iniettare loro il veleno con la forza tramite delle siringhe. Quel giorno a Jonestown muoiono 909 persone. Alcune delle quali sono state ritrovate con segni di iniezione. Il che suggerisce che loro sono state appunto obbligate a ricevere il veleno anche se non volevano. Tra queste 909 persone c'erano anche 300 bambini. Sebbene questo sia ricordato come uno dei più grandi suicidi di massa molti, compreso me, credono sia più opportuno chiamarlo un uccidio di massa oppure massacro. Il giorno successivo le truppe della Guyana Defense Force arrivano a Jonestown e trovano davanti loro i centinaia di corpi inermi sul terreno. Una scena che vista dall'alto sembra quasi una sorta di discarica di vestiti. O almeno a me è sembrato quello. Centinaia e centinaia di vestiti tutti ammassati. Peccato però che non erano solo vestiti, erano anche persone. All'arrivo delle truppe ci sono corpi ovunque. Molti di loro, come vi dicevo, hanno segni di iniezione su braccia, gambe e collo. Ci sono uomini, donne, bambini, anziani. Il corpo di Jim Jones viene trovato disteso sul padiglione insieme ad una delle sue amanti. Entrambi presentano un colpo d'arma da fuoco alla testa. Jonestown, che veniva presentato come un vero e proprio paradiso terrestre, si era trasformato in un inferno a cielo aperto. Gli eventi di Jonestown inizialmente vengono come censurati dal governo americano, ma la notizia arriva dopo pochi giorni anche lì e la risposta dei cittadini è ovviamente enorme. Centinaia e centinaia di persone si presentano davanti alle chiese di Jim a San Francisco e Los Angeles per chiedere che fosse fatta chiarezza, ma soprattutto giustizia per ciò che era accaduto a Jonestown. Ovviamente a seguito dello scandalo viene anche aperta un'indagine dell'FBI che trova centinaia di nastri su cui Jim registrava tutti i suoi rituali, nonché 700.000 dollari in contanti in diverse valigie. Ci sono volute settimane per identificare tutte le vittime e purtroppo 409 delle 909 non sono mai state identificate. Il cimitero di Evergreen a Oakland, in California, ha offerto il suo terreno per una fossa comune dove l'11 maggio del 79 sono state sepolte queste 409 persone e penso sia una delle cose più tristi di questa orribile vicenda. Neanche identificate, ciò significa che avevano o lasciato tutti i loro amici e tutta la loro famiglia da tanto tempo per seguire Jim nelle varie chiese e poi a Jonestown, o non avevano nessuno e quindi anche per quello si erano fatti trascinare da Jim. Tutte le chiese di Jim Jones comunque sono state ovviamente chiuse e confiscate dallo Stato e questo era quello che ancora oggi viene ricordato come il massacro di Jonestown. Fatemi sapere se conoscevate questa storia perché ho come l'impressione che se ne sia parlato davvero pochissimo negli ultimi decenni. Eppure uno dei casi che coinvolgono sette più terribili, più macabri della storia è semplicemente assurdo a cosa possa portare la manipolazione, a quanta forza può avere un singolo individuo su centinaia e migliaia anzi di persone. Fa davvero paura. Io spero con tutto me stesso che eventi simili non ricapitino mai più. Al giorno d'oggi per fortuna c'è maggiore consapevolezza sulle sette, ma le persone fragili, magari sole e facilmente manipolabili, sono sempre un ottimo bersaglio per le congregazioni di questo tipo. Quindi per favore ragazzi state sempre attenti. Informatevi più che potete su qualsiasi argomento in realtà, su tutto, perché solo con la conoscenza e con la consapevolezza possiamo avere un'arma, possiamo stare al sicuro e attuare dei veri cambiamenti. Detto questo ragazzi, se anche oggi vi è piaciuto passare del tempo con me, vi ricordo di lasciare un mi piace al video, o un non mi piace se invece non vi è piaciuto, che vedevo di. E ora ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che ho fatto casino con la programmazione dei video. Quindi il prossimo martedì vedrete un video in cui alla fine vi dico che il video dopo sarà su Jonestown, e invece no, alla fine esce prima questo, in teoria. Eh ragazzi non ce la faccio a fare le cose organizzate, mi dispiace. In ogni caso il prossimo video sarà invece una macabrissima storia di Hollywood. Non so se è il prossimo o è quello prima, vabbè. Insomma vi consiglio di rimanere qui con me iscrivendovi al canale. E adesso parlo con te, sì proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, qui trovi il video che YouTube pensa ti piacerà, e ricorda, YouTube non si sbaglia mai, e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei, e niente vi ringrazio per essere stati qui, e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!